Sono bastate poche ore della mattinata per riportare alla normalità il traffico veicolare nei pressi della villa comunale Falcone e Borsellino, dopo che gli operai della ditta specializzata incaricata dall'amministrazione comunale hanno provveduto a tagliare il secondo pino marittimo, gemello di quello caduto nella serata di giovedì scorso, senza fortunatamente provocare danni a persone. Alle 23.30 infatti la villa comunale era semivuota e il grosso albero schiantandosi al suolo ha solo distrutto alcune panchine e un lampione. La decisione di abbattere il pino secolare è stata consigliata dall'agronomo Marcello Pippa, al quale è stata commissionata una perizia urgente sullo stato di salute del grosso fusto. La relazione, arrivata ieri mattina sul tavolo dell'assessore al verde pubblico Enrico Polichetti, aveva infatti escluso interventi conservativi. Nei prossimi giorni intanto, al ritorno in città di Loredana Caiazza, l'agronoma che aveva già eseguito una serie di indagini sullo stato vegetativo dei platani e delle altre alberature presenti in città, compresi i treppini della villa comunale di Viale Crispi, saranno concordate nuove e più approfondite analisi su tutto il territorio comunale.